Ritorna l'appuntamento con l'apertura notturna del parco archeologico di Elea Velia. Da sabato 25 luglio, infatti, e per tutti i sabato fino a settembre 2015, i turisti potranno usufruire di una visita guidata nel parco, in un'atmosfera insolita e suggestiva. Alle ore 18 è prevista una visita guidata, con una passeggiata nell'area archeologica che si concluderà sull'acropoli. Per coloro che entreranno dopo le 19.30 o comunque senza visita guidata, ci sarà la possibilità di salire sull'acropoli con il servizio navetta del Comune di Ascea, in partenza dalla biglietteria dalle ore 19.30 alle 21.30, ultima partenza, 22.30 ultimo rientro. Alle ore 20.30 biobar, degustazione di prodotti tipici cilentani con test di qualità sugli alimenti. L'evento rientra nel programma di aperture straordinarie e notturne del Parco archeologico di Velia, previste per tutti i sabato da giugno a settembre, dalle ore 19.30 alle 22.30. Un'occasione unica per godere in orari insoliti delle bellezze dell'antica città di Elea, culla della celebre scuola eleatica e patria dei filosofi parmeni dei Zenune. L'iniziativa fa parte del progetto su scala nazionale Expo e Territori, ideato per promuovere nel periodo dell'Expo le eccellenze del patrimonio culturale e paesaggistico delle diverse regioni italiane. La prenotazione è obbligatoria entro il sabato alle ore 12, telefonando allo 0974 27 10 16.